Laura Fontana, buongiorno. Buongiorno. E benvenuta davvero qui nel posto delle parole per conversare intorno attraverso l'argomento che lei presenterà al Festival di Torino a Biennale Democrazia, da Machiavelli a Vannamarchi, l'arte della manipolazione tra truffa e credulità. Ora, è importante questo appuntamento perché la parola truffa scopriamo che non è una cosa del 2023, ma andando indietro nel tempo Laura Fontana ci farà capire che la parola truffa e il verbo truffare hanno una coniugazione molto molto antica. Ricordo ai nostri ascoltatori che Laura Fontana, laureata in comunicazione, lavora da diversi anni come esperta di comunicazione digitale per brand nazionale e internazionale, si occupa di ricerca nell'ambito della sociologia digitale e dell'analisi del web. Qui mi fermo Laura Fontana. Ci vuole raccontare che cos'è la sociologia digitale? Allora, intanto la sociologia digitale ha una serie di problematiche, nel senso che a livello accademico ancora non ce n'è tantissima. Non ce n'è tantissima perché i fenomeni digitali sono nuovi, sorprendenti, avvengono in un ambiente nuovo, che è quello appunto digitale, dove si tendono ad applicare gli stessi, la stessa metodologia, le stesse pratiche che uno ha applicato nel corso del tempo nella realtà. Ma bisogna dire che in questi ultimi anni, nell'ultimo ventennio, l'umanità sta vivendo due vite parallele, una nella realtà e una nel digitale. Appunto l'errore che si fa più di frequente è applicare la stessa metodologia che si usa nella realtà, anche a livello di comunicazione politica, di politica. Insomma lo si riapplica online e lì iniziano a nascere delle incoerenze, perché l'online vive di altre modalità, ancora non esplorate. Ad esempio una delle cose meno capite ad oggi sono i grandi momenti di indignazione del web, quelli che poi finiscono con la richiesta di una cancellazione. Si continuano a studiare questi fenomeni come un qualcosa, come era successo nel passato, ma senza poi entrare nel merito, senza capire effettivamente come funziona questo ecosistema. Non so se ho dato un po' un overview. Certo, certo. Ed è un argomento che non è poi così lontano dal tema che lei tratterà a Biennale Democrazia dell'incontro previsto il 26 marzo a Turino. Lei sarà insieme con Sandro Landi e con Francesco Gallino. Ora entriamo nel tema della truffa, perché il tema della truffa è un tema importante, ancor più quando si parla di ambito internetico e nei social credo che la truffa lì sia veramente presente in maniera esponenziale e rappresenta veramente da una parte la potenza della truffa e dall'altra, Laura Fontana mi perdoni, anche e soprattutto la nostra fragilità. Sì, assolutamente. Alla base c'è la fragilità di noi utenti, che siamo tanti, siamo diversi e che in un momento storico non facile ci ritroviamo appunto con questo smartphone in mano e cerchiamo le soluzioni ai nostri problemi, insomma proprio online, cercando di trovare delle persone che propongono delle soluzioni. Perché abbiamo scelto Vanna Marchi? Perché Vanna Marchi in qualche modo è stata un prototipo, un prototipo di influencer per una serie di motivazioni. Intanto lei prometteva, non so se bisogna fare un po' l'escursus della vita di Vanna Marchi, lei prometteva a un pubblico soprattutto femminile una riuscita nella vita partendo però dal fatto che dovevano dimagrire e per dimagrire dovevano usare le sue creme e questa crema ad esempio molto famosa che si chiamava lo scioglipancia. Quindi lei che faceva? Erano altri tempi, non si usava assolutamente il politicamente corretto che si usa oggi nel linguaggio, ma attraverso i suoi metodi appunto teatrali offriva alle persone, donne, per lo più donne, dei modi per riuscire nella vita dimagrendo attraverso le sue creme. Allora bisogna dire che con la vendita delle creme lei non è mai stata in realtà, cioè non è andata in carcere per questo motivo, è andata in carcere perché poi successivamente ha avuto così tanto successo, non è stata diciamo in grado di gestirlo, è entrata a contatto con delle persone insomma un po' particolari e alla fine si è messa diciamo a vendere i numeri dell'otto, nel momento in cui vendeva i numeri dell'otto poi lì è scattata la vera truffa. Ed è da questo momento in particolare che come diceva giustamente lei è scattata la vera truffa perché se fino a quel momento lei vendeva il famoso scioglipancia che poteva essere così un'idea per dimagrire anche se poi in realtà forse non lo faceva ma non scendo in questi dettagli che non conosco anche se alcuni dicono erano delle creme anche di qualità, lo scarto è avvenuto quando lei ha voluto virare veramente il sestante verso la truffa e quindi avvicinandosi anche a delle persone poco affidabili, qualcuno dice anche affidandosi delle persone che avevano delle collusioni mafiose, quindi lo scarto è stato mica da poco. Assolutamente, c'è stato un grandissimo scarto, infatti tornando sulle creme in effetti sono state anche analizzate queste creme e in realtà erano un prodotto di medio livello, cioè non facevano bene, non facevano male, un prodotto estetico, però è da lì che il suo seguito ha iniziato ad avere fiducia in Vannamarchi e attraverso queste creme che si è stabilito questo patto di credenza, questo patto di credenza che si rafforza con il cosiddetto unguento, l'unguento magico che permette di accettare una vita migliore, da lì lei ha potuto fare il salto di specie e iniziare a vendere addirittura i numeri, direttamente la ricchezza. Ora tante persone hanno visto, è ritornata diciamo sulla cresta dell'onda Vannamarchi perché Netflix ha insomma fatto questa serie, questa docuserie. Anche con un buon risultato di pubblico. Un ottimo risultato, sì sì, un ottimo risultato di pubblico e le persone, gli utenti online hanno iniziato come se avessero avuto questa illuminazione. Le influencer di oggi sono la riproposizione, quasi la messa a sistema di quello che faceva Vannamarchi. Prometteva un qualcosa, prometteva la bellezza, il successo, i soldi, acquistando le cose che lei appunto diceva che andavano acquistate, che avrebbero cambiato la vita. E lei stessa comunque parlava della sua vita, ovviamente con altri sistemi rispetto a oggi, perché ovviamente non c'era Instagram, ma lei appunto diceva sono riuscita a tenere la mia linea, ho conquistato quest'altra persona, sono diventata ricca, potete diventare come me. Ci sono delle influencer che fanno esattamente la stessa cosa, anzi addirittura certe creme che vendono, non si chiamano scioglipancia, però magari hanno sempre questi nomi che con un qualcosa di magico, ecco, con l'elemento magico, come ad esempio luce liquida. Ora, cito questo perché insomma ci fa riferimento a un influencer molto famosa, che tra l'altro ha sponsorizzato anche Sanremo quest'anno. Faccio riferimento perché sono gli utenti online stesso a tirarla in mezzo. Questa influencer a un certo momento ha anche risposto, ha detto sì sì ok, mi potete anche paragonare a Vanna Marchi, ma io fatturo anche più di lei. Ci sono insomma cose che ritornano, bisogna capire appunto le implicazioni di questi fenomeni. Io però vorrei tornare su una parola, Laura Fontana che lei ha detto poco fa raccontando dell'imbonitrice, parola ormai così desueta ma in ogni modo per capirci, Vanna Marchi. Quando lei parlava della fiducia. Ora, se c'è una truffa è perché c'è fiducia verso qualcuno in ogni modo e quel qualcuno approfitta della fiducia degli altri. E questo dal mio piccolo punto di vista è un elemento fondante nella scelta di vita che si basa proprio sul dare fiducia. E qui entra la nostra razionalità? O forse non è ancora sufficiente la razionalità per entrare nel terreno della fiducia? No, non è sufficiente perché ad oggi, come dicevo prima, viviamo tempi molto difficili. Tempi difficili in cui la realtà ci propone una serie di difficoltà economiche e la famiglia, insomma tutta una serie di istituzioni che nel tempo hanno visto perdere il proprio potere e quindi si è anche molto più soli. Poi bisogna anche dire che la pandemia, come una serie di altre cose, ha accelerato tantissimo questi fenomeni. E quindi io le persone con cui, tutte le persone con cui ho parlato, così come le persone che seguono Vanna Marchi, dicono stavo vivendo un momento di difficoltà. Ho perso il lavoro, un divorzio in corso e non mi accetto fisicamente. Seguendo lo storytelling di queste influencer, così come si seguiva Vanna Marchi, in un certo senso si entra in un percorso di pseudo rinascita. Infatti l'influencer spesso di sé racconta come una rinascita, come ricominciarsi, racconta la stessa storia che possono vivere gli utenti da casa. Ho divorziato, il lavoro non mi soddisfaceva. Ho iniziato a fare questa cosa e a comunicarla sui social e mi sono riscatata. Alla fine vengono regalati queste storie di riscatto. Bisogna dire che questo patto di credenza, deve essere continuamente rinnovato e quando si parla con l'influencer deve essere rinnovato ad ogni post. Perché se così non è, se vengono a crearsi delle incoerenze nello storytelling, questo patto viene a cadere e le persone che fino al momento prima ci credevano cominciano a prendersela contro le influenze. Ed è in questi momenti che ad esempio si scatenano le famose ondate di indignazione, ce ne sono state contro appunto queste influencer. Ma il momento, scusi se l'interrompo, ma il momento della sigla di questo patto verso l'influencer arriva nel momento in cui io clicco su like, in sostanza? Sì, nel momento in cui vado ad interagire, che può essere il like. Poi i social hanno tutto un sistema dall'interazione più blanda, che è il like, proprio la base, a quella più forte. Cioè quando io comincio a commentare, quando clicco su follow, ma soprattutto quando comincio a partecipare alla conversazione di quella comunità. Perché poi che succede? Intorno a queste influencer si organizzano delle community e quindi la persona che a casa era da sola trova altre persone, magari nella sua stessa situazione, che seguono la stessa influencer e seguono tutti i consigli che l'influencer dà per trovare anche loro il riscatto nella vita. Capito? Quindi in certo senso ci guadagnano. Guadagnano una community di persone che in qualche modo fa compagnia, sostiene, anche se online, anche se virtualmente, che molto probabilmente non hanno nella vita reale, insomma fungono dalla vita reale perché ci sono una serie di problematiche. Le truffe poi possono avvenire anche in modi più pesanti. Sempre ci sono persone che si fingono ad esempio altre persone e iniziano a tavolare delle conversazioni fittizie con le loro prede, facendoli credere appunto che sono dei polenziali innamorati e cominciano a farsi dare dei soldi. Insomma è estremamente semplice farsi truffare online e c'è anche un motivo. Il motivo è che i social media sono il mondo dello storytelling, cioè già un mondo di fiction. È estremamente difficile distinguere la fiction dagli elementi di realtà che ci sono o che forse non ci sono addirittura. Quindi diventa veramente un gorgo infinito se si entra in una realtà parallela e poi in un'altra realtà ed è veramente molto difficile. Poi la nostra psicologia non è sempre ai massimi livelli, quindi possiamo cadere. E questo non vuol dire che dobbiamo essere per forza di cosa degli ignoranti in materia perché qui a quanto pare anche delle persone molto intellettualmente capaci hanno raccontato di loro discese negli inferi della truffa, che non sono solamente le truffe quelle importanti, quelli di grandi soldi come per esempio gli scambi di NFT, tanto per prendere un esempio importante dal punto di vista degli investimenti, ma anche proprio per piccole somme. Ma prima di chiudere questa conversazione, Laura Fontana, noi abbiamo parlato dell'oggi o di ieri per quanto riguarda Vanna Marchi e il suo d'accordo, ma andiamo proprio indietro nel tempo perché il suo incontro a Biennale Democrazia ci fa fare un viaggio nel tempo molto molto lungo, perché ci porta fino a dove con le truffe? Sì, allora questa è una parte di cui se ne occuperà Sandro Landi, che lui è uno storico super competente sui populismi, su quanto succedeva anche nel Medioevo. Diciamo che le stesse cose in realtà si riproponevano anche nell'antichità, soprattutto questa figura del medico guaritore che girava città per città per vendere questi unguenti. L'unica, o quantomeno la differenza che salta all'occhio rispetto all'antichità e rispetto a oggi, è che oggi sembrano, quelli online sembrano venire da, tra virgolette, truffatrici che sono donne e che si rivolgono ad altre donne, mentre nel passato non erano donne assolutamente, se erano dottori, comunque persone maschili o persone che ad esempio usavano queste truffe anche nell'ambito politico, come ad esempio un Savonarola. È una differenza che ci proponiamo di indagare, come mai è successo, come mai c'è stato questo cambiamento. Come mai c'è stato questo cambiamento? L'importante a questo punto è conoscere e soprattutto partecipare a Biennale Democrazia nell'incontro insieme con Laura Fontana da Machiavelli a Vanna Marchi, l'arte della manipolazione tra truffa e credulità. Prima di salutarci, Laura Fontana, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Allora, il libro che mi fa in compagnia in questi giorni, sto ripassando ovviamente, io come al solito devo indagare, devo scendere dentro i fenomeni digitali e quindi sto leggendo la guerra dei meme di Alessandro Lolli, fenomenologia di uno scherzo infinito, perché anche meme, ovviamente qua apriamo tutta un'altra parentesi, che ci richiede un altro quarto d'ora per sviscerarla, però anche questi contribuiscono al discorso che abbiamo fatto fino a questo momento, alla manipolazione per la questione della viralità, ecco, la viralità dei messaggi che poi portano le persone a credere a un messaggio rispetto a un altro. Sì, perché noi il meme lo consideriamo spesse volte uno scherzo, ma sotto e dentro la parola scherzo spesse volte si nascondono molti, molti pericoli. Grazie davvero Laura Fontana. Di niente, grazie a te. Buon lavoro. Grazie, buona giornata.